Musica Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City aumenta il numero di guariti a Torre del Greco, lieve calo di contagi anche a Castellammare scuole chiuse a Torre del Greco fino al prossimo 5 dicembre l'assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati ai microfoni di TV City spiega le motivazioni di questa scelta spazio anche alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 300 kg di sigarette di contrabbando oggi 25 novembre la giornata internazionale contro ogni forma di violenza alle donne negli studi di TV City la consigliera con delega alle pari opportunità Iolanda Mennella illustra le finalità e le attività dell'ultimo avviso comunale in chiusura lo sport con il turno infrasettimanale della Turris questo ed altro guardiamo i servizi Continuano ad aumentare le guarigioni nel Vesuviano solo ieri 93 cittadini in Torre del Greco sono guariti al Covid-19 un dato ancora più rassicurante si era portato a soli 19 nuovi contagiati purtroppo però un cittadino è passato all'isolamento domiciliare al ricovero ospedaliero per l'acuirsi dei sintomi dopo aver superato la vetta dei 1000 positivi il bilancio della città e il corallo scende quindi a 901 tuttora positivi di cui 19 ospedalizzati un calo dei positivi giornalieri anche a Castellammare di Stabbia sono 22 i nuovi contagiati a coronavirus tra questi ci sono solamente 3 persone che hanno lievi sintomi della malattia alta l'età media dei contagiati ma anche due ragazzi di 13 e 17 anni le guarigioni purtroppo si fermano a due soli cittadini resta la preoccupazione soprattutto per il rapporto con i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 138 con una percentuale quindi del 15,9% intanto congiuntamente i sindaci di Ercolano, Portice e San Giorgio hanno scelto in un aprile alla didattica in presenza le scuole dell'infanzia e le prime elementari come invece esposto all'ordinanza numero 92 del presidente della Campania De Luca la riapertura è quindi posticipata almeno fino al 28 novembre per dare la possibilità ai comuni di organizzarsi per mettere in sicurezza il ritorno fra i banchi una scelta che già ieri avevano intrapreso anche i sindaci di Torre del Greco rimandando la didattica in presenza il 5 dicembre editore annunziata con rinvio al 30 novembre riaprono le scuole in Campania oggi sarebbe avvenuta la riapertura delle scuole dell'infanzia e delle prime classi e le elementari ma il Comune di Torre del Greco sceglie di prorogare la chiusura fino al 5 dicembre ne parliamo oggi con l'assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati da cosa è di pesa questa scelta? diciamo che innanzitutto è una scelta che abbiamo condiviso con circa 40 sindaci quindi oltre ai sindaci dell'area vesuviana il sindaco di Giuliano hanno chiuso anche il sindaco di Salerno il sindaco di Caserta chiaramente è una decisione che prendiamo a malincuore perché sappiamo e comprendiamo l'importanza del diritto allo studio abbiamo fatto una scelta tra diritto allo studio e tutela della salute nonostante gli screening fatti prioritariamente decisi dalla regione Campania abbiamo avuto o meglio non abbiamo avuto dei dati certi nel senso che se lei oggi mi chiede quanti sono i ragazzi, gli alunni, i bambini che volontariamente hanno deciso di fare lo screening io le devo dire che non abbiamo avuto questo dato così come non sappiamo qual è l'incidenza del contagio sul personale docente e non docente quindi davanti ad una non certezza di dati abbiamo deciso di tutelare la salute pubblica e quindi abbiamo deciso di procrastinare l'avvio, la riapertura della scuola una scelta è stata condivisa come ha detto lei da molti altri comuni fra cui anche Ercolano, Portice e San Giorgio che però hanno scelto congiuntamente perché loro hanno fatto una scelta condivisa rimandando al 28 Ettore del Greco e Ettore Annunziate invece hanno agito da parte? No, diciamo che la scelta è stata condivisa non è una scelta che autonomamente ha fatto Ettore del Greco e Ettore Annunziate è stata una scelta condivisa diciamo di concerto con l'Anci che è l'Associazione Nazionale dei Comuni quindi è una scelta assolutamente condivisa forse sarà stata diversa la tempistica noi abbiamo ritenuto andare fino al 5 perché abbiamo un dato epidemiologico importante nella nostra città anche se fortunatamente in questi giorni è in controtendenza e quindi questo ci rassicura tantissimo Parlando proprio della data del 5 la ministra Zolina proprio oggi avrebbe ipotizzato l'apertura di tutte le classi il 9 dicembre è fattibile una scelta del genere? Noi ce l'auguriamo così come auspica la ministra come auspica il presidente della regione De Luca tutti vogliamo riaprire la scuola chiaramente le amministrazioni comunali, i sindaci vivono il territorio quindi noi dobbiamo da questo punto di vista avere certezza dei dati da parte delle aziende sanitarie quando avremo questa tranquillità saremo ben contenti io per primo come assessore alla pubblica istruzione a riaprire le scuole non a caso stiamo intervenendo abbiamo già svolto dei lavori importanti all'interno dei nostri plessi scolastici abbiamo assicurato dove c'è particolare emergenza, criticità abbiamo requisito delle strutture private al fine con la stipula di determinati contratti al fine proprio di garantire ai ragazzi di andare in classe in piena sicurezza allo stesso tempo stiamo mettendo in campo tutta una serie di iniziative di progetti didattici e formativi da questo punto di vista il Comunitore del Greco è pronto per riaprire anche domani mattina i genitori soprattutto sono in pensiero in realtà divisi fra chi vuole la riapertura e chi la teme vogliamo lanciare un appello a tutti i torresi preoccupati in questo momento per le scuole? penso che noi non ci dobbiamo dividere noi dobbiamo avere un unico spartiacque lo spartiacque è la tutela della salute pubblica io stesso sono genitori io stesso sono dei bambini che frequentano gli istituti del territorio quindi nel momento in cui noi avremo certezza che possiamo riaprire in sicurezza diciamo il dubbio deve essere sciolto anche perché il paese deve ripartire un paese riparte quando riparte la scuola il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha tratto in arresto un contrabandiere quarantenne che trasportava 300 kg di sigarette di contrabbando con il proprio furgone lo stesso soggetto è risultato precettore del rettito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 in particolare i finanzieri dopo aver notato il mezzo fermo in un vicolo del comune di Acerra hanno eseguito un rapido controllo rinvenendo diverse casse di sigarette del tipo Chip White, Mark & Winston nascoste mediante una copertura telonata scura il carico era stato sistemato all'interno di 60 cartoni ed era stato abilmente occultato da diverse casse di plastica generalmente utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli i contestuali accertamenti economico-finanziari hanno poi fatto emergere che il contrabandiere pur ripregiudicato risultava anche precettore del rettito di cittadinanza pertanto le fiamme gialle hanno inviato la segnalazione all'Inps per l'avvio delle procedure di sospensione del beneficio Azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni e all'affermazione del principio di pari opportunità è quanto previsto dall'avviso pubblico del comune di Torre del Greco negli studi di TV City la consigliera con delega le pari opportunità Iolanda Mennella illustra le finalità e le attività previste dal bando questo avviso ha come oggetto il finanziamento di un progetto atto proprio a promuovere quelle che sono le affermazioni del principio delle pari opportunità e quindi del contrasto delle discriminazioni in particolar modo sono delle azioni, delle attività informative dove appunto vengono articolati in un piano comunicativo attraverso determinati obiettivi specifici che si devono raggiungere che sono tanti, poi le modalità e anche le finalità che sono poi destinati ai soggetti a quale si rivolge questo progetto I destinatari sono tutti coloro che appartengono al terzo settore quindi le associazioni, le cooperative, gli organismi di cooperazione, le fondazioni è anche privato senza scopo lucrativo questi progetti devono tenere conto delle azioni positive di queste attività soprattutto per mettere in risalto determinati obiettivi specifici che vorrei comunque considerare tra questi obiettivi specifici che poi attraverso il sostegno di queste azioni possiamo verificare quello per la promozione appunto alle pari opportunità come principi fondamentali quindi la sensibilizzazione e la promozione di alcune tematiche sono basate proprio sulla violenza diffondere anche tra i giovani il senso del valore civico della diversità inoltre dare una cultura etica quindi diffondere quei valori positivi combattere tutti quelli che sono i pregiudizi le cattive notizie le cattive informazioni che spesso si vanno sviluppando all'interno dei gruppi di cittadini italiani ma soprattutto dei gruppi di cittadini stranieri quindi contribuire attraverso lo strumento del linguaggio e quindi il discorso interlocutore soprattutto la possibilità di migliorare le relazioni interpersonali tra i cittadini italiani e stranieri e quindi portare uno sviluppo del territorio sia a livello sociale che culturale non è mancato un messaggio in occasione della giornata internazionale contro ogni forma di violenza alle donne del 25 novembre noi spesso ricordiamo la giornata contro la violenza sulle donne sempre il 25 novembre in realtà lo dovremo ricordare un po' tutti i giorni lo dovremo ricordare lì dove lavoriamo dobbiamo ricordarlo sempre all'interno della famiglia come dicevo prima all'interno di una coppia all'interno anche delle relazioni tra amici tra gli stessi compagni di gioco dobbiamo rispettare il prossimo e rispettare il prossimo significa appunto accettare quello che è la diversità ecco perché eliminare quelle barriere che sono ancora presenti nella cultura e nella società di oggi seconda trasferta consecutiva in Sicilia per la Turris dopo il Catania i corallidi incontreranno al Barbera il Palermo nella partita precedentemente esilitata a causa Covid-19 alla squadra di mister Fabiano servirà una prova di livello per vincere a Palermo sia per la qualità dei rosa nero che viene da tre successi consecutivi dopo un inizio difficoltoso sia per lo stress subito per via dei due viaggi in quattro giorni verso la Sicilia a causa dei protocolli anti-Covid i corallini non potranno fare affidamento su Signorelli dunque si prevede lo stesso schieramento visto contro il Catania l'unica differenza potrebbe farla la presenza di Longo dal primo minuto che potrebbe far rifiatare Giannone probabili confermati Pandolfi ed intersetto difensivo costituito da Rainone, Dinunzio e Lorenzini la Turris cercherà inoltre di proseguire nella striscia di imbattibilità esterna che dura ormai da oltre 500 giorni Grazie a tutti per la cortese attenzione vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale Grazie a tutti Grazie a tutti